Erano 432 i deportati presenti sul Trasporto 81, partito da Bolzano il 5 settembre 1944 con destinazione in Lager di Flossenburg. Tra loro, tutti uomini oppositori del nazifascismo, c'era anche Teresio Olivelli, esponente di area cattolica che si rese protagonista con la sua assistenza ai prigionieri moribondi, prendendosi cura dei più deboli. È dedicata alla ricostruzione delle biografie dei prigionieri di quel convoglio la mostra in treno con Teresio della sezione di Pavia di Aned, allestita alla biblioteca civica di Verano Brianza fino al 29 gennaio. Ci sono documenti, documenti storici e disegni anche fatti da Vittore Bocchetta, che era uno dei deportati, che essendo un pittore e uno scultore, ha documentato proprio con i suoi disegni alcuni momenti particolari della deportazione, delle torture. Poi la marcia della morte, quando i tedeschi, cercando di distruggere tutte le prove e le persone, chiusero i campi prima dell'arrivo degli alleati. Anche stasera vediamo come la resistenza che poi ci ha portato alla liberazione era formata da delle figure che erano trasversali. In teoria è un tema che dovrebbe averci trasmesso qualcosa e fatto imparare qualcosa. In realtà, se oggi vediamo e scorriamo i nostri telegiornali, in realtà ci accorgiamo che tutto quello che è successo all'epoca non ci ha insegnato nulla. La serata di inaugurazione della mostra ha aperto la settimana di eventi sulla giornata della memoria a Verano Brianza, che vedrà anche la posa della pietra di Inciampo dedicata a Francesco Cazzeniga. Un proseguio, un continuo di attività, appunto, che proseguirà con la posa della pietra di Inciampo per un caduto, un caduto di un lager nazista, un soldato che si è rifiutato di combattere a fianco dei nazisti e poi continuerà anche il 27 con uno spettacolo che sarà proprio quello di ricordare quello che è avvenuto in quei tempi per cercare sempre più di tenerci la mente per tentare di evitare il più possibile gli stessi errori. Grazie.